Ci sono dei sorpassi che entrano nella storia, nella storia dello sport, di qualunque sport Oggi sorpasso strabiliante, strabiliante Max Verstappen, proprio sembrava ormai finita E poi l'ultimo giro, l'ultime curve, va a vincere il mondiale proprio alla fine, va a sorpassare Hamilton Tra i sorpassi, tra i sorpassi, poi altri sorpassi storici, c'è quello Dell'Inter ragazzi miei, buonasera che weekend spettacolare, che weekend spettacolare Ho aspettato a godere perché dopo il pareggio del Milan ho trovato proprio la fine, vabbè Una mezza sconfitta, mezza vittoria, ma comunque è sempre un punto Juve che non vince, Napoli che perde in casa E chissà che magari possiamo, 4-0, stasera proprio partita Cioè sembrava il continuo di Roma-Inter della scorsa settimana È una cosa incredibile, una cosa incredibile Un Inter sensazionale, straripante C'è la Noglu, C'è la Noglu ormai, cioè fa un gol e un assist ogni partita C'è la Noglu sta sempre dando il massimo gol spettacolare, il cross spettacolare Cose dell'altro mondo proprio, Barella al volo con Sanchez sotto l'incrocio Lautaro di testa, un unicesimo gol di testa a parte dell'Inter in campionato C'è una cosa, in campionato o nel stagionale non mi ricordo Quindi cacci d'angolo sempre più importanti Lautaro che sbaglia i rigori E vabbè, ma con questa vittoria fortunatamente è stato dimenticato come rigore sbagliato Un nervoso, un nervoso quest'altro Minca, tre rigori su quattro l'aveva sbagliato quest'anno O durante quegli ultimi che ha tirato Porca miseria che nervio Che nervi quando sbagliano sti rigori mi dà un fastidio Però, però, vabbè Non stiamo a pensare alle cose negative Ma anzi, anzi, un Inter che ha stradominato dall'inizio alla fine Potrebbe essere dovuto fare il quinto gol Traverso di Sanchez alla fine Però, un Inter che piace Beh, di fondo è un Cagliari Che praticamente non è che ha inciso più di tanto A parte quella azione nel primo tempo Ma poca roba Poca roba, un po' come la Roma Contro l'Inter, insomma E, vi ho detto, è stata una partita quasi analoga Un dominio assoluto E, dispiace per Mazzarri Era una succursale dell'Inter, sembrava Tutti i ex Mazzarri Keita Baldè, che ha fatto niente E, chi cazzo c'era Godin Mamma mia, Godin ancora Pensavo fosse andato via dal Cagliari Ancora c'era E, poi, quel fenomeno di Dalbert Che giocatore Che è ancora nostro, purtroppo Ancora in prestito Mamma mia, che scarpone E, gente che critica Dumfries Tra le altre cose Dumfries ha fatto un partitone Ha fatto un partitone Ha chiesto pure di segnare Se Cragno non l'avesse buttato giù per terra E anche lì non so se era da spell Non ne ho idea Comunque Per tra parentesi dovevo fare gli auguri A mio amico Che oggi compie gli anni All'Alessio From the River Buon compleanno Happy Birthday Che oggi il Toro Tra l'altro ha vinto Ha fatto anche un gran regalo Il gran tifoso torinista Quindi Il gran vittorio del Toro Che sta risalendo La china In classifica Mentre l'Inter oggi Fa un gran sorpasso Che Insomma Ha Giustato che ci si poteva Anche aspettare Diciamo che Addirittura Inzaghe ha avuto modo Di provare Nuove Nuove cose Peresici a destra Ha messo addirittura I giovani Satriano Zanotti Dzeko si è riposato Anche un po' Insomma Siamo in uno stato Di forma Mentale Soprattutto mentale Che Aiuta parecchio Tempo fa Di queste partite qua Magari Rischiavamo Di Di sbagliarle No Che sei lì Che è un'occasione Che Milano non ha vinto Napoli ha perso Sei lì Lei che dice Magari Se vinci Fai sorpasso Non si fai calco Invece Concentrati Senza paura Abbiamo giocato Proprio Con non c'è l'ans Proprio E Va bene Va bene Un calendario anche buono Abbiamo una serenità La venerdì La venerdì Che stanno prese 4 pappini Dalla Fiorentina Mi spiace Mi spiace Dargli Insomma Una sconfitta pesante Però Abbiamo bisogno Di accumulare punti Anche perché Al prossimo c'è Milan-Napoli Attenzione Attenzione Anche lì abbiamo possibilità Di guadagnare ulteriori punti Perciò Giocheremo venerdì sera Giorno di merda Per giocare Infatti il gameplay Devo farlo poi Il giovedì giorno prima Vabbè Comunque ragazzi Contentissimo Di questa vittoria Speriamo Di continuare così Ora tendiamo Beh Devra Finalmente è tornato Anche da lui Dall'infortuna Tenderemo Correa Che chissà Quando tornerà Però Benoma E Darmian Anche Darmian Lo teniamo parecchio Però con un Doomfries Così ragazzi Non possiamo dire nulla Anzi Ha fatto Ha fatto tutto il possibile Ha rischiato pure di segnare Tra le altre cose E gli altri tutti bene Insomma C'è poco da fare Bassoni Ha fatto un tiro a giro Più o meno a giro Sotto l'incrocio Spettacolare Ragazzi Che si può dire Che si può dire Allora Ci godiamo La testa della classifica Addirittura Che Siamo messati i primi quest'anno Quindi la prima volta Che siamo lì Ops Dopo tutte le altre Che sono inciampate Non aspettavo Un convito del Napoli Oggi Contro l'Empoli Eppure È finito Il loro periodo Di forma Di risultati Dopo vittorie consecutive Adesso Addirittura Sconfitte Pareggi Così così Ora Tocca a noi Andare più su Possibile Quindi ragazzi Grande l'Inter Stalipante Che addirittura Fa un grande sorpasso Prima di te primi Salutate la Copa Polista Per questa settimana Ci godiamo La testa della classifica E noi Quando ci vediamo Quando ci vediamo Noi Non lo so Ci vediamo Nei prossimi giorni Sì Giovedì Sarà Con il gameplay Di Saranitana Inter Poi venerdì Commento post partita Classico Vediamo in settimana Se capita Anzi Domani ci sono Attenzione Domani i sorteggi Domani i sorteggi Quindi ci sarà Un commento Io prevedo Che pescheremo Un inglese Secondo me Perché le probabilità Sono molto alte Ce ne sono tre United City E Liverpool Quindi Prevedo Un inglese Poi Chissà Magari esce Lille Chi esce Esce Tanto comunque Non l'obiettivo minimo L'abbiamo raggiunto Del derivato di Ottai Poi Staremo poi a vedere Comunque Va bene così Noi ci vediamo domani Allora Non so se già subito Nell'immediato Anche alle 12 Quindi nell'ora di pranzo Sostanzialmente Se riuscirò a fare un video subito Altrimenti Entro Entro la giornata Sicuramente Puntamento domani Allora ragazzi Sempre Forza Inter La capolista È tornata In vetta Alla classifica Il sorpasso La prossima volta La prossima volta Forza Inter Che devo al canale Ciao